Si è conclusa nel primo pomeriggio l'udienza presso il Tribunale di Teramo dinanzi al GIP Marina Tomolini in cui è comparso Salvatore Parolisi, il caporal maggiore accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea. Udienza iniziata alle 10.30 di questa mattina. Nella prima parte del processo Parolisi ha ascoltato impassibile le deposizioni dei tre operai macedoni che il GIP ha convocato per approfondire le testimonianze già rese. Per i tre macedoni, finiti nell'inchiesta sull'omicidio di Melania Rea, è giunta l'archiviazione. Il decreto è stato firmato ieri e stamane sono stati ascoltati solo in qualità di testimoni. Quanto al fiuto del cane molecolare Pier Giorgio, la Procura continua a sostenere l'inattendibilità mentre la difesa di Salvatore Parolisi contesta la consulenza mostrata in video perché sostengono i legali dell'imputato non è stata svolta utilizzando i criteri dell'individuazione e selezione degli oggetti prelevati nella simulazione, nel senso che non sarebbero state utilizzate procedure di garanzia ad esempio sulla sterilità degli oggetti fiutati. Per la Procura invece un cane molecolare deve essere dotato di esclusione olfattiva cioè avere la capacità di selezionare gli odori. È una ricerca molto tecnica. Se sono ben preparati, comunque ricordiamoci che è sempre un animale cioè la sicurezza non possiamo mai avere, è sempre un animale. È un supporto che va molto... Cioè se il cane ha successo, il lavoro è perfetto, ma se non è successo è un aiuto che può dare, però... E Pier Giorgio di cosa non ha convinto? Cos'è che non ha convinto? No, 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 Pier Giorgio, niente, stanno valutando le cose, io non posso dire questo. Quello che è scritto è tutto messo, questo io non posso dire. Però a Dicembre non ha trovato il soggetto. No, non so, non so, questo non posso dirlo. Arrivederci, grazie. Ha ascoltato anche il conduttore del cane molecolare, Peres, che invece conferma l'attendibilità del lavoro svolto dal cane sul pianoro. Pier Giorgio è attendibile, come io l'ho sempre dichiarato, per quello che è la nostra esperienza, per quello che è il nostro tipo di lavoro, per quelle che sono le esperienze sul campo. C'è stato il contraddittore fra me, l'esperto nominato dalla procura, dove lui ha espresso la sua idea, io ho espresso quelle che erano le mie idee contrarie a quello che lui diceva e adesso valuterà chi di dovere. Quello che si è visto, si è visto un tecnico nominato che non conosce né la razza, né il tipo di lavoro particolare che svolge Pier Giorgio. Noi confermiamo quello che abbiamo sempre detto. Quindi non condivide il parere comunque del perito di stamattina? Qualcune cose, no. Io sono il conduttore di Pier Giorgio, so quello che conosco la razza perché è il secondo cane che ho, quindi ormai diciamo che ho 10 anni di esperienza con questa razza, considerando l'età che ha vissuto la prima e la seconda, quindi ho una conoscenza più diretta. Lui parla di un blow down, lui parla di una non maturazione del cane, io ritengo che per conoscere quando un cane matura sia come razza sia come soggetto bisogna conoscere bene la razza e conoscere il soggetto. L'udienza dopo una pausa di mezz'ora è ripresa alle 13 e alla presenza di un nuovo test, Angelo Giovannelli, un pensionato di 78 anni, residente a Colle San Marco, nella zona dove lavoravano i tre macedoni, luogo dove sarebbe stata vista per l'ultima volta Melania Rea. Un nuovo testimone convocato in aula che infine però non è stato più ascoltato. Il GUP non lo ha più ritenuto necessario. Ci sarà un conferimento di incarico a un entomologo come noi avevamo chiesto e quindi si cercherà di risarire anche dalle larve presenti sul cadavere all'ora della morte. 15 giugno verrà conferito l'incarico a questo entomologo e poi farà anche lui questa parte della perizia. Ci sono valutazioni diverse, chiaramente l'accusa e noi facciamo una valutazione, la difesa ne fa un'altra né più né meno di quello che c'era già prima agli atti. Il processo si è svolto come vi aspettavate? Io sono molto soddisfatto perché avevo posto la questione dell'entomologo, l'avevo già nominato un consulente di parte entomologo e quindi è stato a mio avviso ritenuto che questa strada debba essere tentata e quindi debba essere percorsa, cioè l'ora della morte attraverso le larve. Intanto i periti della procura hanno chiesto ed ottenuto un nuovo sopralluogo con gli investigatori sia a Colle San Marco che a Ripe di Civitella da tenersi il prossimo 1 giugno. Il procedimento chiesto dai legali del caporal maggiore è quello del rito abbreviato, condizionato all'orario della morte di Melania. In caso di condanna Parolisi dovrà scontare 30 anni di carcere e non l'ergastolo.